Ciao amici, ciao amiche, eccoci qui per una nuova rubrica di risposte alle vostre domande audio. È una rubrica che ormai è quasi giornaliera. Voglio vedere se mi riesce a fare una di queste rubriche tutti i giorni. Ci provo, non ve lo posso promettere, ma vorrei provarci. Allora, sentiamo la prima domanda. Caro Maurizio, sono Martina Pedri. Per favore, vorrei sapere se quando il nostro pianeta si sarà liberato degli Elohim attraverso il Talat e potremo incontrarci con Gesù e i Nordici Buoni, Sarà possibile che ci svelino la tecnica per costruire i nanorobot, in modo particolare quelli della salute, per sconfiggere malattie come il cancro e quant'altro. Grazie maestro, un forte abbraccio. Allora, questa è una bellissima domanda. Allora, a quel punto noi potremmo avere accesso a tutte le tecnologie meravigliose che ci hanno sempre negato. Non solo ce l'hanno negate, ma ci hanno proprio impedito di svilupparle. Cioè, loro prendevano i nostri scienziati e li mettevano a robo, gli davano fuoco. Non è che bruciavano i libri, bruciavano chi li scriveva. Quindi questo oscurantismo finirà. Noi stessi saremo in grado di fare meravigliose scoperte. E non come oggi, che queste scoperte vengano tutte pilotate, non per il nostro bene. E a quel punto sì, noi avremo la possibilità di avere anche noi, i nanorobot, quelli della salute, del pieno vigore fisico, praticamente dell'eterna giovinezza. E non è una favoletta, perché loro questi li usano da migliaia e migliaia di anni. Ma non solo questi della salute, ma tantissimi altri. Insomma, le malattie spariranno completamente, dipende soltanto da noi, di avere un'iniziativa molto semplice, pacifica, tranquillissima, di manifestare il libero arbitrio come io vi ho insegnato. Ok? Grazie per questa splendida domanda. Buongiorno, Maurizio, sono Rinaldo. La domanda è questa. Perché i cinesi e i giapponesi sono la razza più tecnologica di tutte? Quelle che si avvicinano di più al mondo, diciamo, degli Elohim. Come mai loro più di tutti? Beh, qui ci sono degli interessi di strategia economica e di conquista finanziaria del mondo, no? C'è stato un momento che Hitler aveva la Germania, che era la nazione più scientifica e tecnologica del mondo. Cioè, dipende di quello che devono fare questi Elohim. Dipendono quale tipo di agenda hanno prestabilito per accelerare la conquista finanziaria del mondo. Tra l'altro, mi sembra ovvio, la mano d'opera cinese è a bassissimo costo. Quindi è chiaro che questo aiuta moltissimo a incrementare le loro finanze e tutta una strategia economica. Non è perché i cinesi siano più bravi, assolutamente. Grazie per la bella domanda. Professore, lei vuole fare qualche domanda. Dopo che ho seguito i suoi video, a lungo, ho meditato. Ho trovato delle connessioni. Quello che dice lei è molto veritiero. Però avevo qualche domanda in più da porle. Concerne che le dice che solo due fazioni sono arrivate in questo pianeta e non abbiamo... Si suppone che non ci siano altre forme di vita al di fuori di noi umani e queste due fazioni. Ma questo è un senso... Concretamente lei pensa che sia così da suoi studi o abbiamo possibilità che siamo stati visitati da altri? Pure io questo volevo sapere. Perché poi le devo porre, concerno questo, le devo porre altre domande per seguire la tematica. Grazie. Grazie della bella domanda. Allora, quando io parlo degli Elohim, dei nordici, e dico che queste sono le razze aliene che interessano a noi, è perché ovviamente questi sono i solariani. sono quelli che abitano proprio a fianco a noi, nel nostro sistema solare. Vengono dal quarto e quinto pianeta. Noi siamo il terzo pianeta del sistema solare. La Terra è il terzo, contando dal Sole verso l'esterno. Mercurio, Venere, Terra. El, che poi attualmente lo chiamiamo Marte. e poi Norra, che qualcuno potrebbe pensare, in base alla metodologia norrene, lo penso anch'io, si possa chiamare Asgard. Ma io lo chiamo Norra, il pianeta dei nordici. Quindi noi siamo le tre specie, diciamo aliene. Le tre specie, perché noi per gli altri pure siamo alieni, solo che siamo buoni buoni, siamo qui tranquilli. Non facciamo del male a altre specie aliene. Quindi io parlo di loro perché loro hanno fatto la nostra storia. È un po' come quando si parla della Terra e in questa Terra si parla di italiani, francesi, inglesi. È chiaro, siamo vicini di casa. Abbiamo fatto la storia tra di noi. Capito? Poi magari qualcuno di questi, qualche spagnolo, qualche portoghese, naviga fino a raggiungere l'America, ecco lì che poi questi diventano gli alieni dei popoli africani, gli alieni dei popoli sudamericani. Adesso, rispondendo alla domanda, no, certo che non ci siamo solo noi nell'universo. Nell'universo ci sono tantissime specie alieni, tantissime razze aliene, anche molto evolute, molto più evolute di noi, degli Elohim, dei nordici, e anche meno evolute di noi, degli Elohim e dei nordici. Insomma, c'è una vastissima quantità di civiltà in tutto l'universo. Questo bisogna dirlo. Poi se qualcuno è venuto qui, giustamente è giusto per una scappatella, non è che hanno cambiato la storia come hanno fatto questi, non è che ci hanno influenzato impedendoci l'evoluzione o schiavizzandoci. Questi qui che vengono, diciamo, da lontano, fanno una scappatella e se ne vanno. Quindi non... Sì, esistono, magari sono anche venuti, ma non hanno avuto l'impatto che può aver avuto un El o un Nor, un nordico. È un po' come dire, ma non è che magari in Africa, nell'antichità remota, ci hanno dato pure qualche, che ne so, qualche cinese. Potrebbe pure essere, ma non è che ha cambiato la storia. Poi ha preso e è tornato a casa per dire, potrebbe anche essere. Ma qui stiamo parlando di popoli, di popolazioni che hanno cambiato la storia. Gli spagnoli hanno cambiato la storia dell'America del Sud. I portoghesi hanno cambiato la storia dell'America del Sud. Insomma, capito? E non solo, ma anche dell'Africa. Ecco, questo è un pochino il ragionamento che io cerco di spiegare alle persone, facendogli capire che questa non è una specie di metropolitana dove gli alieni come ci fanno vedere nei film di fantascienza o per esempio il famosissimo film Man in Black dove ci sono tutte strazzaliene che vengono avanti. Non è così. Anche perché noi abbiamo una situazione particolare dove proprio per principi etici e morali non deve venire nessuno a influenzare una situazione già estremamente critica di un dopoguerra di un dopoguerra tra solariani quindi a livello etico-morale anche se qualcuno potesse venire in questo momento non verrebbe proprio per non interferire per non influenzare un momento estremamente delicato che stiamo vivendo come noi che siamo sotto dittatura aliena di questi Elohim quindi spero di aver spiegato abbastanza chiaramente qual è la situazione. Grazie per la bella domanda se ci sono altre domande scusate i vicini ogni tanto si entusiasmano non so cosa fanno spostano i mobili se ci sono altre domande io sono qui a disposizione. Ciao Maurizio io volevo sapere cosa pensi delle centrali nucleari e delle energie alternative e volevo sapere anche una cosa tanto tempo fa era venuta fuori la storia che in pratica gli alieni quando hanno scoperto che gli esseri umani stavano per usare la bomba atomica li hanno fermati è una bufala o o ti risulta che effettivamente sia andata così? Grazie Ciao Allora cominciamo a rispondere l'ultima parte della domanda sì li hanno fermati ma mica li hanno fermati perché sono buoni li hanno firmati perché loro abitano qui abitano qui nel senso che se tu inquini a livello nucleare un pianeta e inquini pure i loro luoghi dove abitano perché loro abitano sulla terra capito? e tu cominci a inquinare a livello nucleare cioè una guerra nucleare ridurrebbe diciamo al nostro bellissimo pianeta in una roccia in fiamme tutta una roccia in fiamme quindi non ne andrebbe tanto bene a se lui che è rimasto solo questo pianeta per abitare questo sistema solare non hanno capacità tecnologiche per andare a viaggiare su altri pianeti intorno ad altre stelle questo sia chiaro sono civiltà molto giovani anche molto ignoranti a livello etico morale i nordici quelli buoni un pochino meglio logicamente però sono sempre terra terra sono civiltà veramente terra terra civiltà che hanno cominciato ad essere civiltà umane umane con doti umane per capire le cose e ragionare 200.000 anni fa proprio insieme a noi solo che hanno sviluppato prima di noi la tecnologia a causa delle circostanze ambientali più avverse che avevano loro per abitare più distanti dal sole in pianeti meno generosi come invece la natura è generosa diciamo qui da noi insomma qui la natura è bella rigogliosa c'è una natura meravigliosa basta guardare i documentari che fanno in televisione per capirlo che natura che c'è qui da noi e invece loro lì c'era un freddo c'erano situazioni dalle quali bisognava ingegnarsi per riuscire a sopravvivere poi rispondendo invece a cosa ne penso di energia nucleare questa è un'altra storia però le fonti rinnovabili sono le più consigliate in assoluto in assoluto principalmente l'energia solare basta mettere i pannelli proprio c'è energia pulita e non è antiestetica tu ti metti i pannelli sul tetto di casa tua e buonanotte proprio se vuoi fare una centrale ad energia atomica ci sono due tipi attenzione c'è quella di fissione nucleare scissione nucleare che spezza il nucleo ogni atomo libera due neutroni che vanno a liberarne altri due spezzano altri due atomi che a loro volta spezzano lanciano neutroni che vanno a spezzare altri atomi e così via e questa reazione nucleare deve essere controllata come è difficile controllarla? a volte ci sono dei problemi tipo cernobili e altre cosucce è un'energia sì attualmente hanno delle tecnologie più sicure però è comunque pericolosa e inquinante perché produce delle scorie e queste scorie poi dove le mettiamo? capito? non va bene allora se proprio si volesse usare l'energia nucleare allora c'è quella di fusione ci stanno lavorando molto non ci sono ancora riusciti a fare in modo che ne valga la pena ma ci stanno studiando però io dico con tutto il sole che abbiamo bastano i pannelli solari capito? poi ci sono sì le energie non inquinanti e olie per esempio le palle che girano però sono cose bruttissime e poi lo puoi fare dove c'è vento invece il sole c'è dappertutto perché non utilizzare questo che è bellissimo ed è gratis le tecnologie per raccogliere l'energia del sole stanno migliorando sempre di più con dei pannelli sempre più sensibili che anche dove il nuvole prendono la luce del sole e la trasformano in energia quindi andrei molto sui pannelli solari andrei molto su questo spero di aver risposto alla domanda grazie per la bella domanda buongiorno sono Manuel innanzitutto voglio ringraziare per il lavoro che fai e voglio chiedere una cosa a me mi risulta che gli Anunnaki sono un popolo antichissimo di diversi milioni se non addirittura miliardi di anni così evoluti che sembrerebbe che non hanno più un corpo fisico e per potersi manifestare visibilmente diciamo hanno bisogno di possedere un corpo di qualcuno che faccia da tramite e secondo loro hanno sconfitto oltre 20 mila anni fa una civiltà aliena di Apexiani che sembrerebbero dei grigi che ci schiavizzavano sul nostro pianeta ai tempi e vorrebbero aiutarci ulteriormente ma ovviamente per il discorso del libero arbitrio non possono intervenire la domanda è se risulta questa cosa qua o è tutta roba falsa carissimo e permettimi con tutti rispetto l'affetto del mondo perché io so che tu stai studiando cercando di capire come stanno veramente le cose ma la prima cosa che mi viene da dire è ma da quale collana di libri di fantascienza hai preso queste cose e io quando parlo parlo di cose concrete cose che sono riscontrabili verificabili direttamente indirettamente parlo di una fascia di asteroidi generata 12.900 anni fa io parlo di strati geologici che dimostrano che c'è stata l'esplosione di un pianeta che ha colpito la... cioè io parlo di scienza allora e ma quali milioni di anni fa noi abbiamo a che fare con esseri che sono diventati umani 200.000 anni fa proprio come noi quindi forse dovresti vedere qualche video in più dei video che ho fatto io però ti rispondo molto volentieri se l'idea dell'alieno incorporeo che esiste da milioni di anni ma non esiste non c'è nessuna forma di vita incorporea non esiste vita incorporea ma io parlo di scienza cioè scientificamente non c'è nessuna forma di vita che non abbia un corpo perché il corpo serve a sviluppare la vita tu magari dirai no ma hanno superato no non si supera perdendo il corpo si supera avendo un corpo estremamente più perfetto non vincolato a questa cosa molto selvaggia di uccidere per sopravvivere nel senso che noi per sopravvivere mangiamo gli animali ovviamente si uccidono questi animali come li mangi oppure uccidiamo le piante quando tu mangi le piante le uccidi ma anche i leoni in Africa le tigri uccidevano gli esseri umani per mangiarsene insomma voglio dire noi ci siamo un pochino sollevati da questa lotta per la sopravvivenza e quindi svincolarci da questo sarà diciamo un passo importante per una civiltà ma non al punto di perdere il corpo perché se tu non hai il corpo non sei un essere vivente ok quindi se poi fai riferimento a certi studiosi che hanno fatto grossi voli di immaginazione perdendo il contatto della terra sotto i piedi e beh allora io invece sono molto realista ti ringrazio per la bellissima domanda e sei sempre benvenuto puoi domandare sempre tutto ciò che vuoi con questa domanda io concluderei la puntata di oggi vi ringrazio come ho detto spero di riuscire a fare una rubrica di risposte alle vostre domande audio tutti i giorni ci provo vediamo se mi riesce grazie infinite a tutti vi amo da sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti